Luca Classica è calato il sipario sulla nona edizione e si pensa già al 2024. Un cartellone che si preannuncia ricco e pieno di sorprese, visto il ricorrere di tre importanti anniversari, il decennale della manifestazione, il centenario della morte di Puccini e i 60 anni dell'Associazione musicale lucchese. A svelare in anticipo alcuni dettagli è lo stesso presidente Marco Cattani. Nel 2024 stiamo lavorando e stavamo già lavorando prima che iniziasse questa manifestazione perché è un anno troppo importante per noi, per la città e per la manifestazione. In questi giorni sono serviti anche per prendere e rafforzare i certi contatti. Ci piacerebbe, anzi siamo fiduciosi, che entro ottobre potremo già annunciare qualche evento veramente importante. Vorremmo portare qualche elemento nuovo e innovativo e soprattutto stiamo lavorando a qualcosa di originale, cioè fare qualcosa che verrà fatto solo a Lucca. Che questo possa avvenire una produzione nostra o con una coproduzione lo stiamo vedendo e valutando, anche a livello di costi ovviamente. Ma posso dire che faremo qualcosa di importante nostro, che verrà fatto solo a Lucca. Ma lo sguardo al futuro non può prescindere dalle considerazioni sul presente, con una manifestazione solida, in crescita e che anche quest'anno ha riscosso un grande successo in termini di pubblico e qualità degli eventi. Siamo molto contenti sotto vari punti di vista, innanzitutto per la partecipazione del pubblico, poi per la visibilità. Quest'anno veramente abbiamo avuto ampio spazio sui giornali e sui tv e questo ci dà grande speranze e fiducia anche per il futuro. E poi anche per gli spettacoli in sé, perché è stato veramente un coinvolgimento della città, un grande divertimento, emozioni forti. Circa 70 gli appuntamenti che hanno richiamato in città per sei giorni appassionati e turisti, con tante presenze arrivate anche dall'estero. Vedere alle tre di pomeriggi, domenica, San Francesco, pieno di gente per sentire il professor Schettini, che ha migliaia e migliaia di follower e persone che in fondo si sono accalcate per avere una foto con lui, veder firmato il libro. È una cosa bellissima. Come pure lo spettacolo finale a San Francesco con i fratelli Quarta. Era musica contemporanea, difficile, eppure il pubblico in fondo al primo bis e si alzava tutto in piedi per applaudire e per essere coinvolto e convolgere anche gli stessi artisti che hanno fatto anche un secondo bis, che non era previsto. Oppure mi piace ricordare anche il teatro del Giglio Pieno, Perelio, che leggeva le opere liriche, Puccini e non solo applaudito e costretto a più bisse. Ma è stato veramente giorni di grande convolgimento e di grande gioia. E permettetemi anche di ricordare Bollani e Valentina Scenni, non solo per lo spettacolo che ha fatto Bollani, che è la seconda assoluta sul piano nazionale, ma anche per la loro energia e simpatia. Sono stati benissimo, hanno detto che vogliono ritornare e veramente hanno detto parole di grande soddisfazione per questa manifestazione e questo non può che arreglarci.